Si dimette il governo nella Repubblica cieca. Il premier Yuri Rusnok ha rassegnato le dimissioni del suo esecutivo tecnico dopo la mancata fiducia in Parlamento il 7 agosto. Il governo resterà in carica fino alle elezioni anticipate previste a ottobre. L'esecutivo tecnico aveva sostituito quello formato dalla coalizione di centrodestra, caduta a giugno in seguito a uno scandalo di corruzione e abuso di potere.